Grazie a tutti Bisogna solo ribattere le ammarcature C'è che tanto lo fare Il problema non sono le ammarcature Le cose loro Aspetta Uno, le fasce rastiche di cilindri Due, il carburatore Tre, vabbè, si è capito che l'automacchina è tutto un problema Il problema è che tu parli troppo Ma perché non la ci siamo con il altro adesivo? Ebbene ragazzi, pochi chiacchi Questa macchina può diventare Sistematica Ultramatica I-DRA-MATICA Può diventare Gris A culture I-DRA-MATICA I-DRA-MATICA Prende oggi In GONI-DRA-MATICA Sistematica I-DRA-MATICA Noi I-DRA-MATICA I-DRA-MATICA Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì.